Leggi l'articolo completo nel link in descrizione. Una sorpresa ti aspetta. IAP, carta fisica. IAP è una carta prepagata con IBAN che si rivolge soprattutto ai giovani e in generale a chiunque desidera effettuare in maniera semplice e rapida, sia acquisti fisici che online, con in più la possibilità di scambiare facilmente denaro con gli altri amici che possiedono già IAP. Oltre alla possibilità di avere la carta in maniera virtuale, vuoi avere IAP carta fisica seguendo poche e semplici istruzioni. Vediamo quali sono. Come richiederla. Prima di tutto è necessario che tu faccia la registrazione sull'app IAP che avrai installato sul tuo smartphone, qualunque esso sia, dato che l'app è disponibile sia per Android che per i sistemi iOS. Una volta scaricata dovrai soltanto seguire le istruzioni che ti vengono fornite, inserendo dati personali, il numero di telefono dello smartphone che stai utilizzando e una foto in cui sei riconoscibile, oltre ad una scansione del documento d'identità. Se sei minorenne verrà richiesta anche la firma dei tuoi genitori. Prima della conclusione della registrazione verrà fatta una verifica da parte dell'applicazione. Dopo aver terminato ciò avrai subito accesso ad una carta Mastercard digitale con la possibilità di richiedere una carta IAP fisica. È possibile ma a un prezzo, 9,95€ una tantum. Anche se la cifra può variare verso il basso, in base alle offerte presenti, viene sempre meglio visitare il sito ufficiale per tenerti informato. La carta fisica ti arriverà entro un paio di settimane all'indirizzo che hai inserito. I costi collegati a questa carta fisica IAP sono inesistenti, con la sola eccezione della ricarica in contanti, che ha un costo di 2,50€ e del prelievo di contanti in Europa o all'estero, rispettivamente al costo di 1€ e 4€. Il vantaggio di avere la carta IAP è quello di poter prelevare gratuitamente agli sportelli ATM in tutta Italia, con il limite di 250€ al giorno e in ogni banca che vuoi. E dato che IAP fa parte del circuito Mastercard, avrai la possibilità di ridirare denaro o contante anche presso le banche estere, ai costi visti più sopra. Il limite minimo di ricarica è di 5€. Se utilizzi un'altra carta è di 25€ nel caso di ricarica mediante contanti.